Anche in Abruzzo, da oggi primo aprile, saranno liquidate le domande di pensione, quota 100, le domande di pensionamento con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. E sempre da oggi, altra novità, i pensionati sopra i 1.522 euro lordi al mese scopriranno di aver ricevuto un importo più basso di quello incassato in gennaio, febbraio e marzo. E questo perché proprio oggi entra in vigore il nuovo sistema di calcolo introdotto dal governo. Ma per la maggior parte dei pensionati il problema è un altro, non la decurtazione, quanto l'eseguità delle pensioni percepite. E qui alle poste per percepire la pensione? Sì. La sua pensione avrà una revisione, visto che da oggi ci sono delle novità o no? Non lo so, non lo so. Posso chiederle quanto percepisce di pensione? Sotto a mille. È un furto. È un furto che ci fanno, no? Io sono molto a di sotto. E questi che stanno al governo non si sa quanto prendono. Noi operaio qua tiriamo a campo, diciamo. Sarebbe da ritornare in piazza. Sarebbe. È arrabbiato? Sì, è arrabbiato. Diciamo che non sono un cane. Perché qui c'è la rabbia e il cane. Per non dire una parolaccia. È incazzato. Nero. Di tutti i colori. La sua pensione sarà rivista o no? Non lo so questo, non lo so. Perché lei sa che da oggi ci sono delle novità? No, non lo so. Lei quanto prende? 500. 500? Eh, perché è di invalidità. Eh, perché insieme a mio marito. Suo marito quanto prende? Oh, 900. Si paga il condominio, si paga le bollette, insomma poco ci rimane. Voi pagate anche l'affitto? Sì. Da rivedere, questi che prendono tanti di pensione, questi che prendono cose, aiutare un po' quelli che prendono di meno. Especialmente i politici, quei porci. Porci politichi. Sangue e suga. Lei è venuta a prendere la pensione? La pensione a Artigiani. Che lavoro faceva? Il barbiere. 7,50. Quindi è ben lontano da quei 1.500 euro? Sì, sì. Si mangia appena appena, ma nemmeno. Lei è venuta alle poste a prendere la pensione per sua mamma? Sì. Ha avuto una revisione la pensione o no? No. No. La pensione è 1.000 euro al mese. Si fa vivere, si compra quello che è necessario e è finito l'asso. Poi che le bollette e si tira avanti.